Gravissimo incidente stradale sulla Catania Gela a pochi chilometri dall'area metropolitana etnea. Due operai gelesi a bordo di una Fiat Doblò sono stati travolti da un camion che li ha letteralmente investiti finendo nella corsia opposta. Gravissime le condizioni di crocifisso Curva che era dentro il mezzo insieme a Simone Amato. I due giovani si stavano recando a Priolo per motivi di lavoro quando intorno alle 7 di questa mattina è accaduto l'incidente a pochi chilometri da Catania. Le cause del sinistro sono ancora tutte da chiarire ma sembra che il furgone si sia visto arrivare il camion frontalmente nella corsia opposta. Possibile che il conducente abbia perso il controllo del mezzo pesante. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due operai dall'automezzo schiacciato dal camion fuoristrada. Curva il più grave dei due è stato trasportato in elisoccorso al cannizzaro di Catania. Simone invece al gravina di Caltagirone ed è stato quest'ultimo benché ferito a chiamare i genitori a Gela. In tarda mattinata Crocifisso Curva è stato operato d'urgenza all'ospedale cannizzaro di Catania per ridurre il trauma cranico e le varie fratture. In elisoccorso è arrivato in codice rosso e le sue condizioni permangono gravi. È fuori pericolo invece Simone Amato. Il traffico è stato rallentato e nella zona dell'incidente si è registrato una fila di oltre due chilometri. Sul posto si sono portati i carabinieri. La Gela Catania è interessata da numerosi interventi di sicurezza e da messi a un cantiere aperto. In diversi tratti sono stati creati muretti di contenimento per evitare frane e smottamenti, soprattutto in questo periodo di pioggia. Ci sono però ancora ampi tratti di asfalto che continuano ad essere invasi da acqua e fango, rendendo pericoloso il transito dei veicoli.